L'errore più comune che si fa nei corsi di difesa personale è confonderli con corsi di sport da ring come se io essendo un ex agonista di sandà insegnassi le stesse cose, i stessi principi a questo orario e a quello successivo La realtà è totalmente diversa, un esempio per tutti, nella difesa personale se fuggi vinci, se riesci a fuggire, se sei in grado, se puoi fuggire vinci sul ring se fuggi perdi, questo ti fa capire quanto siano veramente due cose contrapposte Quello che in una è una soluzione, nell'altra è il comportamento che ti porterà a perdere Voi dovete immaginare che nessun'arte marziale nasce come sport, nasce l'esigenza di difendersi Poi è chiaro che negli anni o nei secoli poi diventi sportiva Potete pensare al judo, chi pensa alla kickboxing deve sapere che viene dal karate Che poi è diventato il karate facendo piano e quindi quelli che continuavano a fare il karate a contatto L'hanno chiamato karate full contact e poi hanno tolto la parola karate e lasciato la parola full contact Però prima non c'era bisogno di specificarlo perché è chiaro, non fai piano se vuoi combattere Non esisteva la parola light Che cosa accade oggi in cui si insegna la difesa personale? Che chi la insegna ha un'esperienza di jiu-jitsu, judo, karate, box, kickboxing ecc E riporta quello che lui sa di quella sua disciplina nella difesa personale E se lo porta con tutto, quello che lui sa se lo porta con tutti gli errori che nella difesa personale Nascono invece ad applicare quei concetti Tant'è che le persone dicono Eh ma non puoi dare un pugno, passi dalla parte del torto Eh, se uno ti ha insultato certo che non puoi dargli un pugno L'articolo 52 del codice penale parla chiaro per difenderti da un pericolo attuale È chiaro, poi anche che lo devi fare in maniera proporzionata Ok? Ma ci deve essere un pericolo Nel ring ci sono delle regole, nella strada ci sono delle altre Ma in quelle regole lì, quando tu sei in pericolo e il pericolo è attuale Tu, in maniera proporzionata, ti puoi difendere Dal pericolo Non ti deve aver dato un pugno Qualcuno dice Eh no, ma se lui mi ha solo parlato Io gli do un pugno, passo dalla parte del torto Se ti ha detto sei un idiota, certo che passi dalla parte del torto Per fortuna Ma se per esempio ti ha minacciato, ti sto per venire per ammazzare È chiaro, è quello che è un pericolo concreto E proseguendo per questi errori È chiaro che poi che cosa si fa? Pensando alla sport e alla lealtà che giustamente c'è nello sport E che per strada non c'è Perché uno che ti aggredisce, tutto a meno che la lealtà Altrimenti parlerebbe Che cosa si fa? Si scelgono quelle tecniche, quei colpi, quei movimenti, quei gesti difensivi Che fanno meno male all'aggressore Pertanto si prediligono Le tecniche della lotta Che possono essere quelle di Jiu Jitsu giapponese Quelle di Jiu Jitsu brasiliano Quelle di Judo e così via Perché? E anche altre discipline, ok Però soprattutto Tecniche di lotta vengono più digerite Anche dal praticante Perché non si sente nel problema di aver fatto troppo male all'altro Cioè un buono Che non vuole far male a nessuno Vuole imparare a difendersi Da un cattivo che tutti i giorni fa male a qualcuno È un po' difficile È impossibile? No Perché se questo buono dedica una vita Alla Judo, alla Jiu Jitsu A quello che volete voi Dedica una vita Non una vita Sette, otto anni È chiaro che ce la fa È chiaro che poi riuscirà a difendersi Perché? Nonostante che il 90% di quello che studia Non nasce più ormai Per la difesa Ma nasce per lo sport Parliamo sempre di uno sportivo che si allena da anni Ok? Anche un calciatore che si allena tutti i giorni Si sarà a difendere meglio Da uno che fa l'impiegato alle poste Ma perché è un atleta? Però non sta studiando cose Per la difesa personale Per la difesa personale Io devo pensare Cose che posso usare A freddo Cioè non ho bisogno di riscaldamento Cose che riesco a fare Anche quando ho paura Quindi non cose troppo tecniche Quindi facili Istintive Non troppo articolate Cose che funzionano Magari Per una donna di 50 kg Contro un bestione di 100 Cose che funzionano per Una persona con molta paura Contro uno molto determinato È un po' difficile Che una persona che Stia camminando serena Viene aggredita Da un energumeno Riesca a fare Se non ha quegli anni di preparazione Che abbiamo detto Riesca a fare Magari Un epponzonaghe di judo Ok? Se trovi il campione olimpico Ok? Ma non c'è bisogno del campione olimpico Però ci vogliono gli anni La difesa personale Ci deve dare Delle tecniche Dei comportamenti Che io Dopo qualche mese Già sono in grado di attuare È chiaro che Dovranno essere quindi Facili Non devono aver bisogno di forza Non devono aver bisogno di tecnica Perché altrimenti Torniamo al discorso di prima Se posso dedicare gli anni Allora Magari posso diventare Anche un campione di judo Che sicuramente Sarà molto più difficile Che faccia del male a qualcuno Male che vada Lo immobilizzo Si può muovere Quanto si pare Se è un campione di judo Che pesa 50 kg Blocca anche uno di 100 È normale Ma il principiante Mia zia Pensate io Faccio sempre l'esempio di mia zia Mia zia Non lo può imparare Non c'ha il tempo Non c'ha la forza Non ce la fa Alla sua età A dedicare gli anni Perché tra 7-8 anni Può non ha nemmeno più Quel briciolo di forza fisica Questo è la difesa personale E Questo vi fa capire Perché la tecnica di oggi È la mia preferita in assoluto Cioè Il colpo Negli occhi Abbiamo visto La gola Il collo Le cervicali Il ginocchio I genitali E così via Ne vedremo tanti altri La testata Eccetera Ma il colpo Agli occhi È Il gesto Più facile da imparare Più veloce da applicare Quello che necessita Meno forza Meno forza Ci manca solo di vedere Come si fa E come difendersi legalmente Qualora Sbagliassimo nella difesa E andassimo oltre l'intenzione Cioè Io voglio solo difendermi Ma ti ho fatto troppo male Oppure Ho percepito un pericolo Che poi davanti al giudice E qualora ci vai Uno su cento Vai davanti al giudice Ma nemmeno Comunque qualora ci vai Venga provato Che non eri in pericolo Vi suona? Ok? Vuoi imparare a difenderti Da aggressioni E prepotenze? Sono Danilo Capuzzi Il presidente Della famosa Otsuka Club Ho lavorato nella sicurezza Per ben Undici anni E sono famoso Perché per strada Mi sono difeso Decine Di volte Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me Unisciti ai miei strati Studenti Clicca il link che trovi nei commenti